Ho venduto un pezzo, il mio primo pezzo pagato. Di che hai parlato? Cinema, fantasy e bambini. Che palo, l'ho scritto apposta con errori d'ortografia, ho buttato virgola a casaccio. Insomma, è d'impatto per adolescenti che navigano con un nuovo linguaggio. Quello degli analfabeti. Ti mando il link se vuoi leggere. No, grazie, ci mancano solo i poppanti. E Piotro ti vede un po' troppo nervoso, eh? Problemi di testata? Che fai? Analizzi umori? Intercetti, toni bassi, decripti acuti? Vuoi aiutarti? A fare che? E basta il cinema come terapia, non ho bisogno del critico che mi tiene la fronte. Grazie. Di che? Non mi avevi mai chiamato, critico. Nessuno mi ci chiama. Sei stato il primo. Spero di non averti fatto troppo male, allora. È stato un piacere. Tu vieni in sala per divertirti, tu speri ancora nel capolavoro, tu se c'è da piangere riempi le bacinelle, se c'è da ridere ti sganasci trascinando la sala. Becchini! Lo so, Piotro, è che non mi ci sono ancora abituato a non pagare il biglietto, allo sguardo interpretativo, alla mortificazione delle emozioni. Però ci sto lavorando, eh? A casa mi alleno con tutti i DVD che mi fanno impazzire, li vedo, li rivedo, e se c'è da piangere, fischio, e se c'è da ridere, mi fruccio. Vorrei farla finita. Io invece vorrei farmi tutti i festival del mondo. Non guarirai mai. Finché c'è pellicola, Piotri, c'è sempre la speranza di assister a un capolavoro. Il Cino è morto, Paolo, puoi solo sperare di dargli decorosa sepoltura. Amen. Punta, 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 punta. Punta, 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 punta Sbuffia la nicchia senza calcio il culo, spara sul regista ma occhia solo in culo, gentico al sacralato, bandido del culo, senta una bella presa, manda la pantà. Sbuffia la nicchia, fallo in tutta fretta, sbuffia la nicchia e scegge la senza macchia. Sbuffia la nicchia, fallo in tutta fretta, il cinema è morto, la sala non aspetta. Grazie a tutti.